Le famiglie altoatesine stentano ad avere figli. Il motivo è subito detto e il fattore economico, finanziario, gioca un ruolo di grande importanza. Oggi i genitori sono alle prese costantemente con il bilancio di fine mese. Se poi si aggiungono le difficoltà nel trovare un posto di lavoro fisso, il quadro è delineato. Timori confermati dalle giovani coppie e non solo. Perché siamo precari? Io ad esempio ho due anni e mezzo che lavoro per la stessa ditta ma non ho una sicurezza al 100%. Noi ragazzi da giù infatti veniamo su cercando lavoro. Se ci fosse lavoro se ne farebbero di più? Penso di sì, giustamente. È difficile per una giovane coppia al giorno d'oggi poter anche solo programmare di trovare una casa, una stabilità, fare un figlio. Bisogna farlo con la testa e purtroppo bisogna anche un attimino cercare di ovviare al problema economico. Non ci sono molti aiuti. Se devono lavorare i bambini, dove li lasci, gli asili, sì, fino a un certo punto. Insomma, se non ci sono i nonni, probabilmente per questo. Forse le spese che ci sono, voglio dire, si pretende molto di più. Ultimamente una volta ci si accontentava di poche cose, di pochi divertimenti. Adesso ogni bambino richiede molto e quindi chiaramente le spese sono diverse, sono in più. Tematica che tocca ed interessa da vicino la stessa provincia di Bolzano che è pronta a scendere in campo con una serie di interventi. Il primo, un bonus per mamma e papà in caso di congedo familiare contemporaneo. Soldi che arriveranno direttamente dalle pensioni cosiddette d'oro, quelle che di fatto sono state restituite dai consiglieri regionali. Il progetto prevede uno stanziamento di 700 mila euro. Una manovra che mira ad incrementare il numero di nuovi genitori sul territorio.